buon pomeriggio eccomi qua è già in veste di forti dudo per andare al palazzetto sto fremendo dopo tanto tempo ritornerò al palazzetto a vedere una partita che è bello ma veniamo al vero modillo per cui sono qua parliamo di calcio serie a maschile e femminile partiamo dal gentil sesso quindi dalla serie a femminile alle 12 e 30 si è giocata juventus inter le bianco nero hanno avuto la meglio per ben 5 a 1 sull'inter juventus che è in testa alla classifica quota 41 punti quindi più sei dalla fiorentina mentre l'inter tra il settimo e l'ottavo posto a quota 18 punti ed è la seconda sconvitta di fila quindi insomma una sonora vittoria per le bianco nere veniamo invece alla serie a maschile con udinese verona 0 a 0 l'udinese che guadagna un punticino secondo pari di fila nelle ultime cinque partite sala quattordicesimo posto a quota 26 punti a più 4 dalla zona retrocessione il primo posto zona retrocessione occupato dal genoa quota 22 punti riduce dalla vittoria di ieri in casa del bologna per 3 a 0 il verona invece è al sesto posto incredibilmente in zona e meritatamente dico io in zona europa liga quota 35 punti terzo pari però nelle ultime cinque partite il verona giocherà il 23 febbraio in casa contro il cagliari che all'ottavo posto a quota 32 punti mentre l'udinese il 22 febbraio si regherà a bologna per affrontare la squadra emiliana al che occupa il settimo posto a 33 punti però come ho detto all'inizio riduce dalla netta e sonora sconvista per 3 a 0 in casa ieri contro il genova quindi chiudo e concluso e concludo juventus inter femminile 5 a 1 udinese verona serie a maschile 0 a 0 ciao ci vediamo in serata ciao ciao